Terza giornata della pool promozione, big match al Palascoppa, domenica alle ore 17, si affronta la capolista Trentino, coach napolitano, sicuramente una partita difficile ma al contempo molto stimolante per la squadra, si affronta praticamente la squadra che sin qui ha dominato il proprio girone di regolarsi, se non ha vinto la Coppa Italia da due e adesso è in testa alla pool promozione. Ma un po' Davide contro Golia perché oggettivamente Trento è costruita per fare il salto di categorie e farlo anche in maniera abbastanza rapida, lo sta dimostrando sul campo, è una squadra che non ha punti deboli, ha avuto l'infortunio di Moncada ma ha sopperito molto molto bene con la Berasi adesso acquistando la nuova palleggiatrice slovacca, è una squadra che ha tanti punti nelle mani soprattutto nei laterali con Melli, Dodorico e Piani anche se poi effettivamente pure i centrali sono centrali di grandissima esperienza che giocano insieme da tanti anni. Noi ce la giocheremo senza niente da perdere, come giustamente hai detto tu, è una di quelle partite che bisogna solamente avere il piacere di giocarsela, stimoli tanti perché sicuramente come è successo anche nelle altre occasioni, tipo la partita con Marignani in casa è una di quelle partite che dà tanti stimoli, senza però avere pressioni per il risultato perché siamo consapevoli del fatto che ce la possiamo giocare ma che di fronte abbiamo un avversario molto forte. Una pool promozione che alla luce dei risultati che sono maturati sul campo si è visto che praticamente è un altro campionato, risultati anche a sorpresa su alcuni campi, il Soverato da parte sua è riduce da 2-3-2, un tie-break vittorioso in casa con Torino e un tie-break perso al fotofinish a Ravenna dove comunque si è conquistato un punto importante contro una squadra tosta che soprattutto in casa ha dimostrato la sua forza. Il punto di Ravenna è un punto d'oro, non solo per come si è resta la partita ma proprio per la difficoltà della partita in sé per sé, del campo, della trasferta. Questo giro di promozione è giustamente come detto tu è un campionato a sé, soprattutto perché il livello si è alzato tantissimo. Noi soffriamo un pochino la necessità di dover alzare il livello in allenamento, cioè nel senso che il livello di allenamento che abbiamo avuto fino adesso, se era sufficiente per il girone, diciamo la pool normale, la pool regolare, non lo è più per questo girone promozione dove il livello è altissimo. Paghiamo ovviamente alcune deficienze strutturali della squadra, anche se devo dire che le ragazze, e lo hanno dimostrato anche nella partita con Ravenna, sono molto brave comunque a dare ognuno il proprio contributo e ad adattarsi a quelle che sono le mie scelte di volta in volta, laddove magari andiamo in difficoltà. E questo sicuramente è qualcosa che dobbiamo continuare a portarci dietro, però è chiaro che se vogliamo mantenere questo terzo posto, che non deve diventare un assillo, questo sia chiaro, ma deve essere un obiettivo, dobbiamo comunque alzare il livello di allenamento, questo sicuramente. Da qui in poi sarà un autentico tour de force perché in pratica non ci si fermerà più fino a Pasqua, quando terminerà la pool promozione. Soverato che deve essere bravo anche a dosare e a gestire le energie, sappiamo che essendo in undici anche sarà importantissimo l'aspetto psicofisico nel corso di questa pool promozione. Ma guarda Pietro, non voglio ritornare su quelle che sono state le analisi già fatte, la squadra è stata costruita diversamente, noi in qualche misura ci siamo ritrovati senza quello che doveva essere l'opposto titolare. Ripeto, abbiamo la fortuna, ho la fortuna di avere una squadra duttile e che ha saputo sopperire a quella che comunque è stata una deficienza strutturale, cioè proprio di organico, legata al fatto che la squadra è stata costruita in maniera diversa. Sicuramente il fatto di essere in undici, nonostante abbiamo fatto tutto quello che era le nostre possibilità per colmare questo gap, non ci aiuta, questo sicuro, però continuo a dire, alla fine in queste ultime dieci partite, compreso il punto di Ravenna, la squadra si è saputa sempre tirare fuori dalle difficoltà, certamente non sarà facile nel proseguo, soprattutto perché più andiamo avanti e più il livello aumenta e soprattutto paghiamo quello che è un calendario per noi molto complicato. Io voglio ricordare solamente che su quindici trasferte praticamente ne facciamo quattordici in aereo e un in pullman e questo alla fine comunque ha un suo peso specifico grosso, come giustamente dicevi tu, nella gestione delle forze, delle energie, però ci siamo e ce la vogliamo giocare, ce la vogliamo giocare partita dopo partita, palla su palla.